Oggi ad Atessa c'è stata un'interessante giornata dedicata alla prevenzione dentale nei più piccoli. Dental Baby Day, questo è il titolo della manifestazione divulgativa organizzata dalla Società Italiana di Odontoiatria Infantile, tra cui c'è anche il dottor Marco Tiera, tessano, orgoglioso di aver realizzato questa giornata nel suo paese. Ed è stato molto importante perché ci sono stati tanti concetti molto utili, soprattutto ai genitori. Tra questi che cosa possiamo riassumere per fare buona prevenzione? Sicuramente le corrette norme di generale che sono fondamentali perché, come noi purtroppo abbiamo constatato, l'incidenza della patologia cariosa tutt'oggi permane comunque elevata. Quello che è importante quindi è sensibilizzare le famiglie, ma anche le scuole, i pediatri, tutti i mezzi di informazione affinché la carie, questa malattia, possa essere completamente, drasticamente ridotta. Quello che è importante soprattutto, oltre all'igiene orale, anche le abitudini alimentari che devono essere cambiate, quindi evitare l'utilizzo di determinate sostanze zuccherate, sia come bevande che come cibi. Ma quello che abbiamo detto in questo convegno oggi non è soltanto importante la qualità di queste sostanze, ma soprattutto la frequenza. Quindi abbiamo fatto l'esempio che è meglio dare 20 caramelle tutte in un momento e poi lavarsi i denti, piuttosto che dare due caramelle adesso, due dopo mezz'ora e due dopo un'ora. Quindi questi sono i concetti fondamentali e poi di caso in caso si vede se effettuare delle manovre preventive, quindi applicare il floro che comunque di per sé ha ridotto drasticamente l'incidenza della patologia cariosa, ma anche l'utilizzo di sigillature, c'è questi sigillanti che vengono applicati sulle superfici occlusali degli elementi dentari e poi di caso in caso si valuta come prevenire o perlomeno ridurre il rischio della patologia cariosa. La prevenzione è fondamentale per ridurre queste patologie, si è ricordato e si è detto che la carie è la principale malattia numericamente e quantitativamente parlando che esista nel nostro pianeta. Certo, certo, questo è importantissimo e non bisogna sottovalutare l'importanza appunto dei denti da latte che innanzitutto rappresentano sicuramente e mantengono lo spazio per i denti permanenti, quindi bisogna tenerli sicuramente sani, ma quello che è il concetto che deve passare è che il cavorale, la bocca è la via d'ingresso dell'apparato digerente e comunque anche dell'apparato respiratorio, quindi determinate infezioni a partenza dal cavorale e poi possono ripercuotersi anche in altri distretti. Il professor Domenico Tripodi del corso di laurea in odontoiatria all'Università d'Annunzio di Chieti è stato tra i relatori di questo convegno molto importante, soprattutto perché sono passati diversi concetti molto interessanti, soprattutto per i genitori che spesso e volentieri con la loro, tra parentesi, cattiva educazione all'igiene orale sono anche la causa di tante malattie dei loro figli. Volevo precisare che il ruolo universitario è in pedodonzia, ma questa manifestazione è stata promossa dalla SIOI, che è la Società Italiana di Odontotria Infantile, dove io appartengo come consiglio direttivo, quindi noi abbiamo voluto come società a livello nazionale uscire fuori dagli schemi anche universitari e scolastici, proprio per arrivare direttamente alla popolazione, ai genitori, uscire fuori e fare anche delle manifestazioni di prevenzione cariologica, come abbiamo visto, con l'aiuto dei nostri membri, dei nostri soci della società, quindi portare la parola di prevenzione alimentare, prevenzione di igiene orale e prevenire e poter poi come curare eventualmente delle patologie cariose, noi sappiamo che è la più diffusa malattia sociale, quindi a livello mondiale, cercare di abbassare i numeri che ci portano ancora verso questa malattia, cambiando uno stile di vita, avvicinandoci tanto ai nostri pediatri, con i quali noi stiamo facendo un grosso lavoro di informazione per la prevenzione del cavorale, che come tutti noi sappiamo è il passaggio iniziale, il tratto iniziale, dei due apparati importanti, quale il digerente e l'apparato respiratorio, quindi i microbi che noi possiamo portare all'interno possono essere dannosi per l'organismo e quindi non soltanto limitarsi a una carie del singolo dente, noi non dobbiamo dare questa possibilità ai batteri, ma non dobbiamo dare neanche la possibilità agli vizi acquisiti da parte del bambino, per cui deve passare il concetto che il bambino deve effettuare la prima visita odontoiatrica nel primo anno di vita, quando si sta in salute e in benessere, non bisogna arrivare ad avere una malattia o perdere gli elementi o avere una delle discromie per effettuare una visita, ma bisogna avere un follow up, seguire la crescita del bambino per poter mantenere una società sana e non gravare in un futuro con degli elementi che verranno successivamente ospedalizzati per le conseguenze di cattive abitudini dalla prima infanzia. Tra le cattive abitudini è sicuramente quella alimentare? È uno stile di vita che deve essere cambiato, cioè il persistere del ciucciotto, il persistere della bottiglia da biberon, questi sport drink, queste sostanze che sono molto acide come le Coca-Cola, i succhi di frutta, quindi le merendine, bisogna iniziare a ritornare a uno stile e a un'igiene alimentare corretto e capire che ogni qualvolta ci si sporca il cavo orale bisogna porre un rimedio per metterlo a posto, riordinarlo, pulirlo con gli spazzolini oppure il contrasto dello sporco in bocca o della placca in bocca mediante l'assunzione di cibi protettivi, quali possono essere le mele, i finocchi, eccetera, o le fibre o i cibi che devono essere masticati, i cibi più duri. Questo è il concetto da portare avanti, eccetera, quindi non lasciare i bambini da soli ma seguirli, non assecondarli perché non è un ciucciotto in bocca che fa mettere silenzio, fa stazzito il bambino, non è soltanto perché vuole qualcosa in bocca, probabilmente ha bisogno di altro e questo che bisogna far capire, mano a mano che questi bambini crescono, lo stile sia quando si scolarizzano, devono imparare ad avere rispetto del cavorale il rispetto sia con quello che mettono in bocca e come controllano quello che c'è in bocca seguire una normale crescita, seguire l'eruzione dei denti, seguire il cambio dei denti è fondamentale e importante, seguire l'occlusione dei denti perché poi una mala occlusione porta anche le famiglie a spendere delle cifre elevate per poter fare dei trattamenti ortodontici che non sono piacevoli per il bambino ma non sono neanche piacevoli per i genitori che devono supportare sia economicamente sia anche le fatiche psicologiche che possa affrontare la famiglia e il bambino stesso.